Ciao, il mio nome è Marisol Castellanos e sono una ballerina. Ho 15 anni e porterò una performance di danza moderna. Da questa esperienza mi aspetto anche soltanto una piccola crescita personale e di sicuro anche piccole soddisfazioni. Bravissima a livello emotivo, a livello tecnico, bellissime linee. Look bellissimo, poi proprio brava. Bene, grazie tesoro, bravissima. Marisol, nella danza la contaminazione è un nuovo modo di lavorare, è una ricerca e molto spesso le ricerche sono comprese e tante volte molto incomprese. Marisol per te, The Coach, continua, abbiamo compreso. Marisol Castellanos, ballerina. Ciao, il mio nome è Marisol, ho 15 anni e porterò una coreografia di videodance. La mia coreografia si chiama Bow Down ed è un pezzo di Beyoncé, dei live del Coachella. E appunto porto questa coreografia perché in futuro sogno di essere in un palco del genere. Grazie a tutti. Marisol Castellanos, brava tesoro, quanta energia! Guarda Mattia, continua a ballare, vedi? È ancora preso dalla musica. È contento, Mattia. Guarda Agatha, quanto sono soddisfatto quando scelgo questi talenti. Allora, cambiamo arte, andiamo sulla danza. Lei ha solo 15 anni, è una ballerina. Per me è molto versatile, alla fase academy ci ha portato un pezzo molto commercial su un live di Beyoncé. Oggi cambiamo totalmente registro, andiamo sul modern. E portiamo Bruisis, Marisol. E anche la luce. E anche la luce. Is your love I'm lost in, your love I'm lost in I'm tired of being so exhausted Is your love I'm lost in, your love I'm lost in, your love I'm lost in Even though I'm nothing to you now Even though I'm nothing to you now There must be something in the world Cause every day it's getting cold And if only I could hold you You'd keep my heart from going under Brava Marisol Che bella Maura Marisol molto bene Devo dire che anche la coreografia mi è piaciuta molto Ben interpretata Sulla musica Gli accenti giusti Quindi ho apprezzato tanto Tecnicamente ci siamo Espressivamente anche Se posso darti un consiglio Cura un attimino di più la parte tecnica Perché ogni tanto perdi l'Andeor Ok, grazie E' un peccato perché hai delle cose molto belle Quindi ho solo una questione di controllo Soprattutto sui salti Ogni tanto si nota questo Però devo dire che è un'ottima esibizione Brava Grazie Grazie a te Marisol Ciao tesoro Ero più teso io di Marisol probabilmente E si merita proprio di passare Se lo merita Perché è fortissimo Buonasera e benvenuti alla finalissima di The Coach Leader di grandi talenti Grazie a te Marisol Grazie a te Marisol Grazie a te Marisol Grazie a te Marisol Vai pure in centro tesoro Maura Marisol ha un'anima eccezionale Ma al di là di questo Sei una ballerina carismatica E questa non è una cosa che si insegna Si ha In più sei tecnica Ti sei commossa E' arrivato anche a me personalmente la tua emozione Marisol e Marvin siete voi a vincere questa sfida Quindi preparatevi per la prossima Mora Marisol che dire, ogni qual volta sali su questo palco ci illumini, sprigioni energia, grinta, hai un'espressività pazzesca, riesci a comunicare qualsiasi cosa tu voglia comunicare Siamo tutti d'accordo a votare Marisol Quindi a vincere la sfida è Marisol, complimenti tesoro, quindi tu sei in finalissima, complimenti Grazie È arrivato il momento Vince la quarta edizione di The Coach Marisol Contale, siete voi, vieni, vieni a Morgan Vieni Marisol, vieni tesoro, sei giù la vincita Grazie